Ciao ragazzi qua ZV e siamo ancora con il mio mito Il mio mito Oggi devo darti una brutta notizia Questa è la tua ultima carta di FIFA Ultimate Team Adesso la andiamo a commentare e poi io ti preparo degli esercizi Per provare a vedere la tua carta di FIFA Ultimate Team quest'anno FIFA 21 94 di velocità o un fulmine? Sei veloce? Sì fratello, sempre Sei più veloce tu o un Bappé? Bappé c'è un velocità che è straordinario Lui è più veloce di me ma... Sei più veloce tu o Bameyang? Io sono più veloce di Bameyang Sei più veloce tu o Muriel? No ma sono veloce fratello Più veloce di Muriel? Sì sì sono veloce Odu Amadio Quadrado? Sono veloce più di Quadrado Più di Quadrado? Sì Adesso ragazzi stiamo commentando ma dopo andremo a vedere tutto sul campo Ho anche ragazzi due anni che non ho ancora giocato eh Ma velocità non ho perso Però Odu io vedo un numero che a me non piace Io mi sono arrabbiato quando ho visto questo numero Sì anche 50 di tiro fra Cosa gli dice eSports? Eh ma guarda hanno sbagliato Ah 54 passaggio? No frate Più 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 54 Odu 73 dribbling Oh ragazzi Faccio sempre skill Mi danno 73 dribbling No frate Non si può Lasciamo stare eSports Questa volta te la faccio io della carta Sei un grande Va bene bro Questo 66 di overall a me non piace Cronometro alla mano Ti faccio fare la corsa per il campo Va bene mister? Vamos Allora ci sarà ZV che ti dirà il via E tu sprinti a manetta Quando fischio? Partito 6 secondi e 65 Odu E c'è gente che fai 100 metri in 11 Sei una cazzella 100 metrista Ancora meglio? Dovevo fare meno questo Meno di 6,65 Odu mi hai fatto venire Fiatone a seguirti Sei troppo veloce Via Odù 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 Non ti dico cosa hai fatto Mamma mia Oh ma Mamma mia Secondo te quanto hai fatto? 6 Meno Meno No Fra Meno fra Oh raga Uno che non ha ancora giocato da due anni 44 ho confermato secondo me Ok Dovevi fare un'altra ancora? Sì Vuoi fare la gara? Dai faccio la gara anch'io per vedere Perché così ragazzi almeno Vi facciamo capire quanto è più veloce Odu Vedremo Sergei Velo fresco E Odu che invece ne ha già fatti due Via 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 5 76 5 e 90 Tanta roba Tanta roba E adesso dobbiamo andare sui tiri Andiamo a fare i tiri Andiamo Allora ragazzi vi spiego questo esercizio 10 tiri Ogni tiro varrà 10 punti Se dovesse prendere un legno Paolo O traversa Sono 5 punti da aggiungere Primo tiro Odù E subito 10 10 punti per la sua carta di FIFA Tutte lì 2 tiri 20 punti 2 tiri 20 punti 5 Odù 25 Questo poteva essere un gol fantastico Mamma mia E questo però Niente quindi 0 punti 4 tiri 25 punti 5 punti per la sua carta di FIFA 3 punti per la sua carta di FIFA Ah niente 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 Questo qui bellissimo Questo qui fantastico Fra 55 quindi L'overall è stato superato Ultimo tiro per 65 Eeeh Vamos Ragazzi 65 non è per me Però comunque 50 65 Beh porca miseria Differenza strepitosa ragazzi Odù adesso però I passaggi 54 di passaggi non mi piace Fra non mi piace su 54 Hai visto ragazzi quella partita Contro la Juve Ho fatto un assist da Ronaldinho Ragazzi andate a cercare due madi Assist Ronaldinho perché io l'ho già visto Gli ha fatto tipo un cambiocampo strepitoso E Odù ha vinto lo scudetto col Milan Capite ragazzi Chi vi ho portato Quindi ragazzi adesso andiamo a calcolare il passaggio di Odù Su FIFA 21 Saranno 5 passaggi la porta corta E poi 5 passaggi lunghi Primo passaggio Passaggio corto E vabbè Questa è facilissima Odù Secondo Eeeh Questo fai il doppio Facilissima 30 Vediamo se fai 40 Ovviamente 40 Manca l'ultimo tiro Sì Puoi arrivare a 50 Eeeh Troppo facile però Odù Hai altri 5 tiri Per i passaggi lunghi Per i passaggi lunghi E questo è difficile Ci siamo Odù Quando vuoi A giro? Ah male male Ne hai altri 4 Odù tranquillo Stai tranquillo Questo c'è Questo c'è No No Sì Questo c'è Questo lo vedo No Questa No no male Può arrivare a 70 anche di passaggio Odù Vediamo Io avevo detto che Ne avrebbe fatti 2 E No 60 Odù 60 di passaggio Comunque tu sei una fascia Meglio il cross per te Meglio cross e assist Cross e assist Adesso allora Andiamo Con il dribbling Il dribbling non è male C'hai 73 Ma di più Di più vuoi? Di più Allora andiamo a sistemare ragazzi Il percorso Per il dribbling Di Odù Per il dribbling Io mi aspetto tantissimo da Odù Me la passi Te la ripasso Mi punti E devi fare gol Ogni volta che fai gol Nella porticina Dopo che mi dribbling Sono 10 punti E devi farne almeno 8 giusti Così arrivi a 80 Ce la puoi fare Odù Certo Tra vuoi alzare Già lo so Ehi raga Vabbè Ma ha fatto il doppio passo Non ci ho capito nulla Ok Vieni Odù Ha proprio un altro passo Ragazzi guardatelo 30 Troppo forte Odù Io dribbling Ce l'ho Che è fatto fino alla fine Oh imbattibile È troppo veloce Mi chiodo Pure di Mancino Sì ma l'hai visto Cosa ho combinato Ha preso mi ha capito subito Quasi quasi Stavolta non me lo fai Odù Vengo io? Vieni No vabbè Mamma mia Raga Cosa gli vuoi dire A uno che ti fa sta roba In tre secondi Grande Odù 60 su 80 Mancano due Dai Odù Dai questo è difficile Odù Vengo io? Vabbè Occhio che sbaglio Oh sei a 70 Ne manca uno 80 Oh no faccio bel dreamer Per voi Oh vabbè Alla basta raga Chiudete tutto Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? L'elastico in volo L'elastico in tornaldigno Sì L'elastico in tornaldigno 80 di over Stra mega meritato Io direi anche 5 stelle skill Scrivetelo nei commenti Se ha 4 o 5 stelle skill Perché è una roba del genere Mai vista da nessuno io E adesso però Fra la difesa La difesa devo fare io Sì Così batto quella 20 Alla difesa Troppo poco 20 Troppo poco Troppo poco Adesso Odù Facciamo calcolare una difesa Non facciamo 10 dribbling Ma 5 Ti spiego il perché FIFA dice Odù un attaccante Non è che gli do 70 in difesa Quindi vuol dire Che puoi fare 0 o 50 massimo Cerchiamo di ragionare Come ragionerebbe Gli esports Se hai un attaccante Un ala sinistra Esterno Non puoi avere più di 50 In difesa Sennò Sono veramente Puoi fare il terzino Odù 5 tentativi Primo Te l'ho regalato Te l'ho regalato Odù Bravo Mi riesci a mettere Proprio dietro Bravo Bravissimo Bravamia Ha provato a farmi il tunnel Ma prima se mi vuoi fare il tunnel E devo riprenderla Lo so Infatti punto tuo Non è che fai il tunnel E lasci Perché io apro Se metti qua Prendo Hai capito Senza fallo Senza fallo Ultimo Sei a 40 Odù Tranquillo 50 su 50 Grande Odù Fortissimo E non ho visto palla Né offensivamente Né appunto in difesa È un campione odù E adesso però Dobbiamo finire il video in bellezza Perché il fisico Ci riposiamo due secondi E poi facciamo il fisico Raga Allora ragazzi Adesso per la sfida finale del fisico Faremo un esercizio Che faceva Sergei GK A scuola Spiegalo 30 addominali Partendo così Mani dietro E si fanno 30 Addominali Ma bisogna farli in 30 secondi Mi sembra facile Ma non lo è per niente ragazzi Tinto Timer 3 2 1 Via Il crampo 20 secondi ancora Odù lo vedo velocissimo 15 secondi 10 secondi 8 7 6 5 4 3 2 1 41 Voi quanti? 36 41 Io non ho contatto Come non hai contatto? Dal video lo scopriremo Io 41 Ma non li ho fatti bene Perché non mi fanno male Eh ma No no Eh vedi Fai il follo Guarda come si alza la schiena sotto Odù Volevo barare Odù Odù mi è sembrato il più veloce Sì eh Ma io non ho contatto Io con la cosa dell'occhio vedevo Odù Puh Puh Tu li fatti giusti però Odù si si I miei non valevano Perché sennò avrei vinto Hai rubato Odù Allora Ci abbiamo un regalo per voi Chi segue Odù Amadi Cosa succede? Io Da un regalo Da mio cuore Seguo 20 persone 20 tra di voi Che lo seguite Adesso Verranno seguiti a sua volta Subit Odù Odù Su messaggi Scrivo ciao Ciao grande Ciao grande Ragazzi Questa è tutta improvvisazione Cuore d'oro Cuore d'oro di Odu E io però voglio concludere questo video Dicendo una roba Noi adesso abbiamo visto Odu come attaccante Ma nel prossimo video Odu starà in porta Oh ragazzi Nel prossimo video Io sono in porta Andiamo ragazzi Sì ma Odu Devi essere più forte di me Devi volare Più forte di lui no Perché Devi dire come volo anche tu Sì però Odu Ma secondo me a te Non ne pari nemmeno una No Se fa i cinque Parro Quattro 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 Cinque E allora Cinque Ingold No